Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, il tv giornale di mercoledì 31 luglio. Parleremo del progetto Scuole Sicure con le telecamere di videosorveglianza, chiamiamole così, antidroga in 5 istituti della città, 3 di scuole superiori e 2 scuole medie. Vedremo quali, in questa maniera la nuova giunta Fabri detta un po' l'agenda per quanto riguarda la sicurezza in città. Vedremo su quali punti si muoverà soprattutto nelle prossime settimane. Poi parleremo anche di un traffico di cani e con una frode anche in due allevamenti della provincia di Ferrara, a Iolanda di Savoia e a Gambulaga, un traffico che è stato bloccato dai carabinieri e dal forestale. Parleremo anche di diversi appuntamenti che si terranno in città, compreso anche quello del Tenda Summer School. Qui naturalmente siamo sempre nel Copparese perché davvero mancano pochi giorni a questa nuova edizione del Tenda Summer School, il campus dedicato ai giovani attori. Però apriamo con la novità per quanto riguarda il campo Rom di Via delle Bonifiche perché dal 2 agosto ci sarà il trasferimento delle famiglie Rom. Alan Fabri, sindaco di Ferrara, firmerà domani in prefettura l'ordinanza di sgombero del campo Sosta. Oggi pomeriggio in sala consigliare municipio intanto è stata convocata la quarta commissione presieduta dal consigliere Mantovani per le informazioni relative al trasferimento e alle nuove sistemazioni date dai due relatori, Cristina Coletti, assessore ai servizi sociali e Nicola Lodi, vice sindaco con delega alla sicurezza, che questa mattina alle 12 si sono recati appunto in prefettura. All'incontro sono state invitate le associazioni ferraresi, comunità Papa Giovanni XXIII, Opera Matteo, Amnesty Ferrara 035, Caritas Ferrara, Associazione Viale Cappa di Ferrara, Meeting Point, Opera Nomadi e ASP di Ferrara. Vediamo. Sarà il sindaco di Ferrara Alan Fabri a sottoscrivere domani in prefettura l'ordinanza di sgombero emanata dal prefetto del campo Sosta dei Rom di Via delle Bonifiche, ordinanza che sarà operativa a partire da venerdì 2 agosto, quando inizieranno i primi trasferimenti delle famiglie Rom dal campo ai nuovi alloggi, messi a disposizione da tre associazioni di volontariato, fra cui Viale Cappa e Caritas Ferrara. Il campo Nomadi, nato nel 1989 come campo Sosta, quindi provvisorio, ha detto il vice sindaco Lodi, è diventato negli anni permanente. Un campo esposto a situazioni di degrado e in passato anche ad episodi di criminalità. In tutto sono 40 le persone, tutti i cittadini italiani, ha sottolineato il vice sindaco, in gran parte ferraresi, coinvolte nello spostamento che sarà provvisorio e avrà una durata di sei mesi. Vista la gradualità annunciata, il trasferimento dovrebbe svolgersi nell'arco di poche settimane, con alcuni criteri fissati, come è stato risposto alle domande dell'opposizione, per garantire alle famiglie di restare unite e ai bambini di poter continuare a frequentare la scuola dove già erano stati iscritti, quindi, presumibilmente, nell'area della periferia nord della città. Due, i commenti dei consiglieri di opposizione che all'unisono hanno sottolineato come l'operazione avesse bisogno di tempi più lunghi e di decisioni più meditate per evitare di spostare, come fossero pacchi, nell'arco di pochi mesi, le persone da un alloggio temporaneo ad un altro. Fra i commenti dei diretti interessati, il disagio di dover subire la frammentazione della loro comunità, mentre l'opposizione, in particolare i consiglieri Meli, Baraldi e Colaiacovo, ha parlato di autogol della maggioranza. Voi credete, hanno detto di aver risolto un problema, ma in realtà ne avete creato un altro, forse più grave, che riguarda l'integrazione nel nuovo ambiente e l'accoglienza da parte dei residenti. Confermato il risparmio per le case del Comune di Ferrara, le utenze del campo costavano più di quanto non costano le nuove estremazioni, hanno detto gli assessori, che hanno rinfacciato al Pato Democratico di aver aggiatizzato in questi anni la comunità Roma. In questo campo noi, nessuno, e dico nessuno, della passata l'amministrazione ha avuto la vegezza e la responsabilità di portare a termine un progetto importante, che si chiama integrazione, che si chiama avvicinamento alla cultura italiana. Siamo naturalmente sull'argomento anche nei prossimi giorni. Intanto parliamo di videosorveglianza. Tre scuole superiori e due scuole medie sono gli istituti scolastici a Ferrara, scelti dalle forze dell'ordine per l'installazione di telecamere per contrastare la diffusione della droga nelle scuole. Stamattina in prefettura Ferrara la firma del protocollo che rientra nel progetto Scuole Sicure, finanziato dal Ministero dell'Interno. L'Istituto Copernico Carpeggiani, il complesso Bachelet-Roiti e quello dell'Ipsia-Carducci e poi ancora le scuole medie De Pisi-Sebonati. Sono gli istituti scolastici della città scelti dalle forze di polizia per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza per il contrasto alla droga. Un protocollo fermato dal prefetto e dal sindaco di Ferrara, finanziato con poco più di 51 mila euro dal Ministero dell'Interno, che rientra nel progetto Scuole Sicure per l'anno 2019-2020. È un salto di qualità rispetto all'iniziativa partita nel 2019 perché quest'anno, oltre all'impiego delle nostre forze di polizia, della polizia municipale, avremo anche il supporto e il sostegno di cinque telecamere che saranno posizionate su cinque istituti scolastici del capoluogo, tre scuole superiori e due scuole medie. Il consumo e lo spaccio di droga è un dato in aumento nella città di Ferrara che segna un più 10% rispetto allo scorso anno, spiega il prefetto, a differenza di altri delitti come rapine e furti, che, nonostante gli ultimi episodi registrati in città, segnano un forte calo. Il spaccio di sostanze stupefacenti è un tema sul quale il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica ha sviluppato delle importanti strategie e i dati che evidenziano su Ferrara, purtroppo, ancora un incremento, testimoniano la necessità di andare avanti in questa direzione, cioè una forte attività di prevenzione ma anche di contrasto. I cinque istituti scolastici sono stati scelti in relazione al numero di studenti iscritti alla mobilità. Già lo scorso anno scolastico, Ferrara aveva avviato però una forte attività di prevenzione e controllo, con 93 scuole controllate anche con l'impiego di unità cinofile e l'identificazione di quasi 180 persone e il sequestro di alcuni grammi di cannabis e eroina. Con l'operazione Scuole Sicure partiranno anche i tavoli tecnici in prefettura con le forze di polizia per lavorare in rete. Lavorare in rete, come abbiamo sempre sostenuto, è il modo più efficace per ottenere i risultati più utili ed efficaci. Lo facciamo su tutti i temi ma lo facciamo evidentemente anche quando il nostro obiettivo è quello di tutelare appunto le fasce più deboli, più vulnerabili. Quindi ragazzi, parlo di quel protocollo per me, forse in questo momento ancora sottovalutato, ma forse uno dei impegni più importanti sanciti e sottoscritti da me personalmente qui a Ferrara, che abbiamo sottoscritto a settembre dello scorso anno, all'inizio dell'anno scolastico, per una validità triennale, quindi ancora molto importante per la sua utilità e che contiamo di estendere al maggior numero possibili amministrazioni locali anche adesso dopo il rinnovo delle tornate elettorali. Dal cambio del comandante della Polizia Municipale alla videosorveglianza, non solo nelle scuole ma anche nella zona della piccola media impresa a Ferrara, ecco l'agenda del sindaco Alan Fabri in tema di sicurezza in città nei prossimi mesi. È il nuovo patto per la sicurezza firmato dalla Lega e dal centrodestra in città Ferrara, un cambio di passo come spiega il sindaco Alan Fabri in occasione della firma in prefettura del progetto Scuole Sicure che porterà la videosorveglianza in cinque scuole della città. Ed è un primo passo perché noi continueremo come amministrazione comunale, anche con dei fondi del nostro bilancio, a cercare di coprire l'interesse delle scuole superiori e delle scuole medie. Credo che sia un risultato importante, così come dovremo continuare a lavorare in sinergia con tutte le forze dell'ordine per vigilare e comunque cercare di reprimere un fenomeno che grava sui nostri giovani. Un cambio di passo, quello della giunta Fabri, che partirà con il cambio della comandante della Polizia Urbana, Laura Trentini. La nostra intenzione da qui ai prossimi mesi è cambiare il comandante della Polizia Municipale e dare delle indicazioni, delle linee guida diverse per quello che riguarda la Polizia Locale, che abbiamo delle professionalità molto importanti e la Polizia Locale conosce essenzialmente il territorio e dovrà lavorare in maniera sinergica e collaborare con tutte le altre forze dell'ordine. Per questo, con tutti i presupposti formativi del caso, armeremo anche la Polizia Locale nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per dargli la possibilità, in una logica di prevenzione, di poter collaborare a tutto tondo con le altre forze dell'ordine che lavorano sul nostro territorio. Ma il sindaco interviene anche sulle motivazioni legate alla bocciatura della biblioteca posizionata nel nuovo comando dei Vigili Urbani, in costruzione nell'ex Palaspecchi. Realizzeremo la biblioteca in un altro spazio, adesso stiamo valutando dove. Io credo che un comando di Polizia Locale deva svolgere la funzione di comando di Polizia Locale. La biblioteca deve fare la biblioteca, così come tutti gli altri luoghi pubblici hanno la loro funzione. Ci è stato chiesto anche, in una logica di sicurezza, dopo l'incendio della stazione di Mirandola, per quello che riguarda sempre la Polizia Locale, di separare le due cose. E noi crediamo che quegli spazi debbano essere adibiti a chi svolge un ruolo importante, come quello del Vigili Urbano. e troveremo un'altra collocazione alla biblioteca, una sala studio per gli studenti. Infine il problema dei furti messi a segno ai danni dei commercianti ferraresi, un'escalation che si è registrata soprattutto nelle ultime settimane. Vogliamo trovarci con anche le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani per fare un po' un tavolo, per predisporre anche nel futuro patto per la sicurezza della città di Ferrara, anche tutte le linee guida che caratterizzeranno l'azione con tutte le forze dell'ordine, così come anche nella zona della piccola mega industria, diciamo zona diamantina. Abbiamo già avuto un incontro con alcuni industriali e cercheremo anche qui di attuare sia un inserimento di videosorveglianza che di maggior controllo. È ovvio che è un fenomeno che si può contrastare soltanto se c'è la volontà di farlo. Da parte nostra c'è. Per gli azzerati il garante della privacy ha dato l'ok alla bozza del decreto per i risarcimenti, i risparmiatori delle banche azzerate, il congelamento era avvenuto alcuni giorni fa per dare la possibilità all'autority di valutare eventuali invasioni nella sfera privata o accessi a dati personali degli ex azionisti e obbligazionisti che dovranno presentare le domande. Un altro step superato prima della firma del decreto e della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, spiegano gli azzerati. La lungaggine per questo fondo ha esaurito un po' tutti. Non è stato facile ma sono fiduciosa. Siamo sulla giusta strada, ha spiegato Milena Zaggia dell'Associazione Risparmiatori Traditi di Ferrara. Oggi manca ancora la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per il regolamento consape, la comunicazione del primo giorno per iniziare a fare le domande di rimborso. Continua Zaggia, aspettiamo anche l'incontro al MEF per tentare di ridimensionare il numero di documenti da presentare per la domanda che hanno anche una spesa non irrisoria. Sono fiduciosa e spero che come già successo con gli obbligazionisti ci possano essere delle possibilità migliorative. Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, continua a Zaggia, si è impegnato a chiedere una facilitazione sulla documentazione per la domanda di rimborso. ha sottolineato l'esponente dell'Associazione Ferrarese di Azzerati dei Ex Carife. Traffico illecito di cani e frode nella vendita. Sequestrati 105 cuccioli erano ben tenuti, ma avevano un microchip serbo e non erano iscritti all'anagrafe canina italiana. Indagine dei carabinieri di Coparo e della forestale di Argenta. Due gli allevamenti finiti nell'inchiesta, uno di Yolanda di Savoia, l'altro a Gambulaga. Vendevano cuccioli di cani ingannando gli acquirenti, che poi si trovavano con animali di altre razze e non quelle scelte per il loro pedigree. Una truffa bloccata dai carabinieri e dagli uomini della forestale con quattro persone denunciate. A finire nei guai due uomini e due donne di nazionalità serba e italiana che gestivano due allevamenti di cani, uno a Yolanda di Savoia, praticamente abusivo, allestito in una casa colonica e l'altro invece regolare a Gambulaga nel comune di Porto Maggiore. Un'indagine avviata a maggio che si è conclusa in queste ore con il sequestro di 105 cani. Cuccioli di Boston Terrier, Bulldog francese, Golden Retriever e Labrador, tutti ben tenuti, non maltrattati, ma con microchip serbi e non iscritti all'anagrafe canina italiana. Un giro d'affare imponente. Il costo per l'acquisto di un cucciolo variava dai 1000 ai 1800 euro con una caparra di 800 euro. I quattro ora dovranno rispondere di traffico illecito di animali e frode in commercio. L'arma dei carabinieri è molto vicina al cittadino. Vicina al cittadino sia all'anziano che al bambino, ma anche agli animali. Grazie ai carabinieri forestali che da circa due anni fanno parte dell'arma dei carabinieri, sono stati inglobati, riusciamo ad essere un corpo veramente amalgamato e combattere qualsiasi tipo di crimine, non solo contro le persone, bensì contro la natura e contro gli anziani. L'invito è quello di rivolgerci a noi carabinieri o anche ai carabinieri forestali ed effettuare qualsiasi tipo di segnalazione, anche le più banali. Noi le considereremo tutte. Parliamo ora della Camera di Commercio di Ferrara e del programma per il 2020, perché ci sono in previsione progetti per oltre un milione e mezzo di euro. Consolidamento, sviluppo e riposizionamento delle imprese esistenti, sostegno all'occupazione, all'internazionalizzazione e supporto per la partecipazione ai bandi europei, nascita di nuove imprese, digitale, incontro fra domande e offerte del lavoro, ma anche valorizzazione del turismo e del patrimonio culturale, assistenza alle piccole e medie imprese per la partecipazione alle gare pubbliche, valorizzazione delle aree produttive, ecologicamente attrezzate e delle botteghe storiche, lotta alla burocrazia e all'illegalità, gestione preventiva delle crisi di impresa ed un rapporto nuovo con la finanza. Sono davvero tanti gli obiettivi che si è posto la Giunta Camerale Stense già al lavoro per il 2020, con progetti che in condivisione con le associazioni di categoria sottoporrà il Consiglio nel prossimo mese di ottobre. Circa 2 milioni di euro, oltre a quelli che arriveranno attraverso la presentazione di progetti sui fondi nazionali, le risorse messe in cantiere della Camera di Commercio, tutte finalizzate alla crescita e allo sviluppo e alla promozione della responsabilità sociale di imprese e dello spirito cooperativo. In primo piano anche la vigilanza dei mercati, i prodotti a tutela delle imprese e dei consumatori, l'ottenimento di brevetti internazionali e l'installazione di pianti di video e soveglianze di allarme. Determinanti infine la presenza della Camera di Commercio in infrastrutture cruciali per lo sviluppo del territorio ferrarese, tra cui spiccano l'aeroporto Marconi di Bologna, il porto di Ravenna e Ferrara Fiere. Incentivare il turismo balneare a visitare anche la città durante la stagione estiva è uno dei progetti presentati dal Consorzio Visit Ferrara. Vediamo. Fare rete per il conseguimento di risultati sempre più importanti. È questo l'obiettivo con cui il Consorzio Visit Ferrara ha presentato nuovi progetti per il turismo sul territorio estense, incentivando i vacanzieri balneari a visitare la città in concomitanza di determinati eventi. Un'iniziativa che ha sostegno dell'Amministrazione Comunale di Ferrara, che ha previsto un ulteriore contributo di 20.000 euro. L'amministrazione crede fortemente nel rapporto tra pubblico e privati, quindi nel coinvolgimento del Consorzio Visit come consorzio, come soggetto che coinvolge molte attività imprenditoriali private della nostra città e del nostro territorio e per questo ritiene fondamentale concretizzare questa collaborazione anche tramite un contributo di 20.000 euro per organizzare una serie di iniziative, di azioni, di promozione turistica. Innanzitutto è un segno tangibile, per questo ringrazio l'attuale amministrazione, di credere nel turismo e credere in tutte le connessioni che questa provincia può offrire. Visto il periodo e la stagione, il progetto principale è trovare sempre una soluzione al problema dei collegamenti provinciali, quindi come collegare la costa con la città d'arte. E quindi abbiamo da subito voluto creare qualcosa di tangibile, consapevoli del fatto che i lidi e la costa saranno in queste settimane, soprattutto ad agosto, diciamo così frequentate da centinaia di migliaia di turisti e quindi provare a creare dei collegamenti, delle navette che sfruttando le aperture straordinarie del castello estense o nella settimana dei basker potessero prendere i turisti dal mare e portarli a visitare Ferrara. Ovviamente questo è un primo test e noi speriamo di poter negli anni futuri creare invece un collegamento più strutturato. A supporto di turisti e operatori, il consorzio Visit Ferrara ha presentato due utili strumenti digitali. La prima è H-Benchmark, una piattaforma che serve per raccogliere dei dati sia storici che previsionali che vengono forniti dalle strutture ricettive, in modo tale che ogni notte noi forniamo questi dati e il giorno dopo possiamo sapere tutto lo storico ma anche tutti i dati previsionali del tipo percentuale di occupazione delle camere, prezzo di vendita, canali da cui arrivano queste prenotazioni. Con i dati previsionali si possono fare tante cose perché si possono anche studiare gli andamenti di come sta andando le prenotazioni di un evento futuro e quindi si possono anche attivare delle strategie di marketing nuove per correggere eventuali dati non positivi. La seconda invece è una nuova skill che si chiamerà Visit Ferrara, girerà naturalmente sui smart speaker sia di Alexa, Amazon che di Google e permetterà ai turisti di chiedere una serie di informazioni tipiche che di solito vengono date alle reception o all'ufficio informazioni direttamente dallo smart speaker. Borse di studio per la Poldelta International School and Birdwatching and Ecotourism. I comuni di Comacchio, Codigoro, Stellato, Cervi e Mesola hanno messo a disposizione nove borse di studio appunto a favore di residenti e operatori dei loro comuni per partecipare a questa prima Poldelta International che si terrà nel territorio della biosfera Delta Po dal 7 all'11 ottobre 2019. Le candidature vanno presentate entro il 2 agosto presso la sede dell'ente di gestione per i parchi e la biodiversità del Po. I candidati saranno selezionati da una commissione valutatrice appositamente costituita di cui faranno parte tecnici e funzionari del parco regionale del Delta del Po affiancati da uno o più funzionari dei comuni promotori. E mancano pochi giorni per la nuova edizione della Tenda Summer School il campus di giovani attori ideato da Stefano Muroni che si terrà anche quest'anno a Villa Mensa Copparo e di cui Telestense è media partner. È giunta alla quinta edizione con una crescita costante nelle adesioni da tutto il mondo. Dal 4 all'11 agosto torna presso Villa Mensa nel comune di Copparo il Tenda Summer School il primo campus internazionale per giovani attori ideato da Stefano Muroni con la direzione artistica di Massimo Maluccelli supportato da comune, provincia e regione e con Telestense come media partner che racconterà ogni giorno le esperienze dei protagonisti. Noi siamo partiti 4 anni fa con 20 ragazzi io quando riguardo le foto di quella prima edizione fa anche un po' tenerezza perché poi sono diventati 38 poi 52, l'anno scorso 75 e quest'anno 100. In pochissimo tempo io ho detto vorrei arrivare a 150 in 15 anni e sono 100 ragazzi invece in 4 anni quest'anno è la quinta edizione. La cosa che mi piace dire e condividere con voi è che il mondo, i ragazzi, la gioventù, gli adolescenti sono ancora attratti dalla bellezza e dalla bellezza del teatro. E poi mi piace vedere la Tenda Summer School come un manifesto culturale cioè in un mondo in cui purtroppo continuiamo a costruire dei muri la Tenda Summer School costruisce dei ponti meravigliosi dei ponti culturali. Quest'anno abbiamo cercato di dare l'opportunità ai ragazzi di lavorare con persone che abbiano esperienze simili esperienze che possano essere più facilmente condivise quindi abbiamo un gruppo di principianti un gruppo di intermedi e un gruppo di persone che hanno ormai molta esperienza in molti casi sono ragazzi stranieri che vengono da scuole molto alte e sono già dei professionisti alcuni hanno vinto anche dei premi questi tre livelli non saranno treghetti a un certo punto comunicheranno fra di loro però sono tre livelli che permettono di dare chiarezza a tutto il percorso e a tutta l'esperienza che loro fanno. Questo progetto ha una valenza altissima proprio perché parte dalla cultura, dal talento, dalla formazione attoriale ha un respiro di livello mondiale perché 100 ragazzi provenienti da tutti i paesi del mondo ma soprattutto non soltanto forma quindi alla cultura e alla formazione teatrale ma anche un aspetto imprenditoriale importantissimo perché con questo collubio si riesce a dimostrare e si è riuscita a dimostrare in cinque anni che è possibile mangiare di cultura, vivere di cultura, vivere di arte e di teatro. Noi siamo orgogliosi di avere una location così bella perché Villa Mensa è uno veramente dei gioielli che abbiamo all'interno del nostro territorio ospitiamo questo evento dal 4 all'11 di agosto e ci piacerebbe proprio che Copparo fosse Copparo al centro del mondo. Sicuramente farò un sopralluogo perché essendo arrivati adesso siamo stati eletti un mese fa quindi non avevamo ancora avuto un rapporto diretto con questi ragazzi però vedere dal vivo questa tendopoli di ragazzi che studiano, lavorano e si divertono e passano il tempo deve essere una cosa molto entusiasmante. Prima di chiudere vi ricordo gli appuntamenti su Teleestens alle 20.10 una casa per amico in questa puntata un nuovo modo di fare casa giornata internazionale delle cooperative alle 21.30 con i piedi per terra oggi agricoltura, eccellenze enogastronomiche, itinerari turistici e poi alle 22.40 vi ricordiamo l'appuntamento con l'Avis una puntata dal titolo l'associazione del dono come crescere insieme, evento che si è tenuto presso l'Abbazia di Pomposa nel mese di giugno. Chiudiamo qua il nostro TV giornale per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.